Siamo qui in Piazza Montale, a Vallette, quartiere simbolo di Torino, fortemente teleriscaldato, molti alloggi popolari, un'assemblea pubblica veramente di sapore intersezionale. Avete trattato i temi della guerra, che sono quelli che hanno portato all'inflazione, che sono quelli che hanno portato al rialzo delle materie prime e quindi comunque anche del riscaldamento. Avete spiegato perché IREN non è all'interno di queste logiche, non dovrebbe esserlo maleusa e avete fatto anche un discorso molto interessante sul reddito di cittadinanza. Cosa state ottenendo, cosa volete e cosa farete? Allora, adesso quello che abbiamo ottenuto sono tutte queste ossa che hanno tirato dalla loro tavola in bandita, il primo bonus a 12 mila, noi l'abbiamo protestato, hanno dato un secondo bonus, sempre per questa stagione, a 25 mila. Noi comunque chiediamo lo scorporo del prezzo del gas dalla tariffa del teleriscaldamento, così come ha anche decretato Arrera che ci vuole una tariffa cost reflexive, dopo il suo studio è durato nove mesi, quindi l'hanno approfondita bene questa cosa, hanno trovato delle criticità e hanno detto che il teleriscaldamento deve costare per quello che consumano i produttori. IREN consuma di gas il 7,44% ma ci fa pagare a noi utenti finali il 100% di questo calore come se fosse prodotto da gas. Non è vero, il gas che usano lo producono per produrre energia elettrica. Il teleriscaldamento è un prodotto di scarto da questa cogenerazione, per cui si è deciso con un referendum comunale nel 1980 facciamo questa rete di teleriscaldamento in tutta la città e un futuro pagheremo gratis, sarà quasi gratis il teleriscaldamento, adesso no perché la rete costa. Ma adesso il futuro è oggi e il teleriscaldamento costa più del gas centralizzato condominiale, quindi il 22 maggio a Torino si terrà la convention europea sul teleriscaldamento patrocinato da IREN e Comune di Torino. Noi saremo lì a contestarli assieme a tutti gli altri comitati e collettivi e sindacati di base che vorranno unirsi a noi. Quindi ho lancio questo appello a tutti i cittadini teleriscaldati e non teleriscaldati, visto che Torino è una città così fortemente teleriscaldata. Questo è un dramma cittadino, quindi invito a tutti a partecipare al 22 maggio a questa nostra iniziativa all'ingotto. Grazie.